Stati Uniti nella morsa del gelo, con l'arrivo del 2018 una nuova sciabolata artica ha investito il paese facendo precipitare le temperature che in alcune zone sono state di oltre 15 gradi più basse rispetto alla media stagionale. Un freddo record a chi ha interessato una vasta aria del paese, dal Texas ai confini col Canada, dal Montana al New England, è reso ancora più pungente dai ventigelidi che a Des Moines, nell'Iowa, hanno portato ad una temperatura percepita di 35 gradi sotto lo zero. Freddo polare anche in diverse zone lungo la costa del Golfo del Messico. A Mobile, in Alabama, la colonnina di mercurio è arrivata fino a meno nove. Sono almeno due le vittime causate dall'ondata di gelo, che ha risparmiato solo la punta meridionale della Florida.